Zacchetto per l'insalatina, per la frutta almeno tre, il porri non ci entra manco più, invece mi ricordo la spesa insieme a te alla I.O. Con centomila lire riempivamo il frigo e il frizzero, compresi carne, olio ed il caffè, la spesa la facevi una sola volta al mese alla I.O. Conan, non mi obbligare anche te, co-op, se è vero che io sono te, cercherò dentro la bustina con il decreto fai da te, all'anno spenderò quell'euro in più, la gente non ci ride, lì vorrebbe mandare tutti alla I.O.